Musica 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 77 sempre per Tiago Bissoni in avanti per Selusio alla conclusione Bissoni ci ha preso gusto e forse glielo chiede anche Samperi attenzione intanto Occhio qui dentro il ballone per Uguerani Grandissimo intervento di Dalcine Bissone in avanti a cercare Pesk va al 9 All'indietro la conclusione di Fantasele Giusto vuole fare la giocata giusta per dare l'opportunità del suo Occhio a Dalcine che va alla conclusione Murata però ancora una volta dall'alto Dalcine Con i denti stretti come si suol dire Occhio Uguerani Avellino E sempre però Dalcine Nonostante i denti stretti Carmine Prima Luisigno poi Dalcine Pesk alla conclusione Vola Tiago Perez Davvero intensissima Amtedanicic va via Va alla conclusione Ancora una volta Due alla termine Ancora Dalcine Va alla conclusione Murata Alex Zappa parte il tiro Attenzione L'ottima chiusura L'occasione Bernardez Buono per Arnon Che addomestica bene il pallone L'intervento risolutore Da parte di Mammarella Pallone che finisce per poco in porta Ecco questo clamoroso autogol Sarebbe stato di Belsito Attenzione perché c'è questo tiro Respinto da Pietrangelo Disimperiarsi rapidamente del pallone Lo fa calciandolo in avanti Colpo di testa di Grippi Tomeia Ha un autostrada davanti E Tondi Con la punta delle dita La mette in calcio d'angolo Palla torna a Rafinha Finisce per traio Tomeia tutto regolare Dimash in avanti Niccolodi col destro E Weber La toglie dall'incrocio Mamed Cerca spazio Mamed col mancino E poi Pulvirenti Due volte E Tondi la blocca Mamed ruba palla Calcia col mancino Che parata di Tondi Per Basile Dentro da Mamed Va da Tomeia C'è Cesaroni dall'altra parte Tondi la devia sulla traversa E poi Rafinha calcia Dentro per Ozzian Il destro Bello buono Si oppone Desimone La palla per Fortino Prova Girazzi Bello buono Si oppone Perugino riparte Sinistro sul fondo Da parte del capitano Faccio la toccata Bello buono Ercolessi Patias La giocata di Patias Ancora Il destro E la parata di Gagno Perché Anche sul gioco Delle due partite In cui varranno I gol Intanto qui l'errore Patias Attenzione La conclusione Qui sbaglia E poi Il bomber Qui attenzione Ancora Arillo Avanti Sinistro Bello buono E poi ancora Arillo Sul fondo Due sette al termine Del primo tempo 3 a 0 San Giuseppe Riparte bocca L'errore qui Fortino Che sbaglio Ancora Con Bello buono Che si oppone Angolo per il Napoli Fernandinho Viene fermato Poi Fortino Sinistro Bello buono Ancora Per Il Attenzione qui Ercolessi La controlla E poi Gagno Si salva Tanto Fernandinho Per Fortino Grasso Destro La parata di Bello buono Qui l'errore Con Dianluca Che ne approfitta Avanza Dianluca Dianluca Para Bello buono Contro Ercolessi Fortino Arillo Dentro Fortino La parata Miracolosa Di uno straordinario Bello buono Dovrebbe vincere L'ultima partita Intanto Grande recupero Di Salas Tutto regolare Non c'è il fallo Lo scarico Per Crema Crema Ancora per Salas 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 Gagno Si oppone Poi Salas Sul fondo Patias Gagno Si oppone Fernandinho Dianluca Fernandinho Dianluca Arillo Calcia Bello buono Pronto il 27 Podda Riceve Mancino Cerulli E Poletto Fermato Riparte Lido E scoperta Lello 84 Cataldo Per Cutrupi Pedro Siqueira In calcio D'angolo Murilo Contro Regini Si accentra Calcia Cerulli Allontana Nardac Avanza Palla al piede Lucas Finte Cambio di lato Preciso Poi Cabeza Con il destro Cerulli E pala traversa Tutto bellissimo La conclusione Il riflesso Di Cerulli Supera il centrocampo Poi Gran palla Per Cutrupi Cutrupi calcia Due volte Due volte Trova l'opposizione Di Pedro Siqueira Lucas Cambio di lato Cabeza Centralmente Murilo Ottimo movimento Conclusione Cerulli Protegge Il primo palo